Ciao a tutti ragazzi, io sono Alex E io sono Angesius e oggi riprendiamo con Grysistrack Sìììì Scusate per l'ultima volta ragazzi, ma si erano purtroppo Spente le bevive camere E non abbiamo potuto fare il solito Saluti, i soliti saluti diciamo E quindi Sìì è una vera merdaio Sì è una vera merdaio E tutto Oddio no la vasca Perché è vasca? No, dove vai, dove vai, devi andare a girare, devi andare adesso. È sicuro. Eh sì? Guarda la nostra parte. E' adesso si muore. Mori. Qui? Io muoio qua. No, era giusto correre. Dici, tu? A me non si muore. No, lì, vede. Gua qua, magari corazzati. Mi faccia notare da qui. Anzi, no, dai. La mia indivis. Non mi per te. 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 No. Oddio. Ah, c'è una teleferica. Ah, c'è una teleferica, vai. Forse, forse. Ah, eccola qua. Ah, c'è anche delle munizioni qua. Great. Ma non abbiamo sparato ancora niente, quindi... Cioè, calmi. Siete pronti? Adesso entriamo nel pieno dell'azione. Yuppii. Volanzo massimo. Yuppidu. Mi sa perché io non mi spiegavo. Mi spiegavo. Quattro e al secondo. E' in orbita di parcheggio. Ma dove è la vita che mi spiegava? Dammi segnale. Procetto. Ah, non lo mi dice. C'è il jackass. Se riesco a collegarmi all'alimentazione dell'artiglieria posso controllarla. Favolta. Qua mi sta foschendo tutto. Eh, qua, mi sta foschendo tutto. Eh, qua, ho pure finito. Lo afferrano, lo afferrano. Eh, non lo afferrano, mi cavolo. Eh, non lo afferrano, mi cavolo. Lo afferrano, mi cavolo. Lo afferrano, mi cavolo. Quindi cariceffa Adesso ho scoperto un modo giusto per farvi fuori Adesso venite qua pure Dai dai vieni qua Dai dai vieni qua Ah ma noi dovevamo arrivare da quella parte Guarda a me non me ne frega niente Da che parte vuoi arrivare Mi portate che ci siamo tutti C'era si fa Dopo 21 minuti e 29 C'era si fa Ho trovato un modo Dai dai arriva Psycho Vai Total destruction Ma la facca Vai Psycho Tutto spacca qualsiasi cosa Spacca tutto Spacca anche noi Dai dai C'era una cosa che hai detto Dai io c'è io Aspetta 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 Usa questo di suicidio Quale? Questo che c'ho qua io Quello? No quello che c'ho io in mano Perché è bello? Ah ma che forza Ah mi portano tutti da lì Allora dove stai andando? Di lì Devi andare di lì Dai stai lì su Sì c'è una cava fottuta a casa Non contro gli spigli Adesso gli devi andare vicino Sparare di tutto quello che hanno Guardi Nanti anni Sono voi Oh non ti Vai al punto Sì no Forse Te la senti Ehi Ale mi stanno tirando la corsa Ma qua 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 Dovevi andare? Eh? Dovevi andare? Oddio parlati! Ma dove? Ho trovato un buco Sono uscito Ma cazzo Sei sceso? Cioè la cosa che non dovevi fare l'hai fatta Allora vabbè Si fa inserire Per fortuna Era una strada Ah una strada che non c'è No Io ti ho accultato Tipo un po' e basta Cioè non dire Vai che i 74 metri Dai 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 E lì E vai in cazzo Hai delle evoluzioni Prendile 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 Speciali non è Speciali Prendile Vai vai Occultati Mamma Ahahahah Ahahahah Ai piedi l'esprato è morto Vinci No Sì Mi sono molto facile Perché? Perché ti rallenta fuori Occultati 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 Sì OCCULTATI Almeno La sfereglietta Guarda che c'è qualcosa di sbretterato Si è chinato OCCULTATI Corri Run 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 Prophet Run 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 E si parto Oh Corri Piano Ok ok si puoi andare grazie mille grazie mille aiuto aiuto bello che mi sta sparando in becca che bello ma si ma io passo così cadono comite queste cose strane questo no non so mi sa che sono il cieco non lo so perché sono io guarda occultati quello lì è uno con Laura occultati tu non questo quello lì che c'è lì oh cazzo dove stai andando dove stai andando devi andarti là cosa ti ti ah no non 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 hai le frecce normali ma adesso è un arco quello è un bazooka? non hai un bazooka in carica lecce appangulo non prendi aura la tua aura non vale niente è la mia più forte ok ok poi si vanno in cuore oh patiri per usare patiri per usare usa 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 oddio corri 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 devo andare dove c'è il punto magari? non c'è stato lb oddio la presa 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 adesso vai però nooo caravante finca ti sparo ok ok sto andando non mi preoccupare oh oh non mi persi i pesci sparcami i pesci facciamo una pesca mi sta a scendere ok ce l'ho fatta ma anche non ti preoccupare ce l'ho fatta non so come corri nel tubo nel tubo poi c'è un altro nel tubo 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 ma poteva anche inquiettarli è bello che non c'è più nessuno quale ma cosa dici? si è morto 87 miliardi di ore oddio vediamo, vedi la situazione sei occultato cioè brutta situazione grazie, vero, vero davvero? davvero? non posso salire come sta stando? ooooh si stava, no, non si stava mica cos'è quello? quello che ti tocca, anche lui c'ha una è il coso è lo spettro è lo spettro di Destiny amico tutto bene? tutto bene lui mi piace conversare con i ceretti oh ragazzi sto entrando nel vivo di Crutch finalmente qua si buccia te lo dico chiaramente te lo dico da anni io ho saltato probabilmente 87 miliardi oh vai vai, sei vicinissimo io direi di andare subito per fregatene tipo di quello fregatene io sono un pazzo come vuoi e adesso vai corre ok, terzo ragazzi terzo è l'ultimo eh si, un'ultima volta che cosa vuoi? che cosa vuoi? che cosa vuoi? che cosa vuoi? aspetta, sento le vibrazioni negative in che senso le vibrazioni negative? vibrazioni negative? cosa vuoi dire? c'è qualcosa di cattivo più avanti eh, se ci pensi bene dovrebbe essere la tale del nostro amico sarebbe strano che non la sentissi comunque stai attento e non abbassare la guardia che cosa vuoi? che cosa vuoi? che cosa vuoi? che cosa vuoi?